Due nuove rotatorie sulla Statale 16 a Tortoreto. Hanno preso il via questa mattina, commissionati dall'ANAS, due degli attesi interventi sulla viabilità cittadina. L'impresa appaltatrice ha infatti iniziato a rimuovere gli sparti traffico nel tratto nel quale la Statale 16 si innesta con le vie Carducci e Denso Ferrari. Contestualmente sarà anche eliminato il semaforo che disciplina quel tratto stradale. Una volta realizzata la rotatoria, analogo intervento sarà effettuato qualche centinaio di metri più a nord dell'incrocio con via Leonardo da Vinci. Relativamente a questo incrocio non ci sono semafori ma la rotatoria che l'ANAS sta per realizzare andrà a ridurre la pericolosità dell'intersezione stradale, molto trafficata essendo una sorta di porta d'ingresso da nord dell'abitato del Lido. L'ANAS inizialmente aveva previsto una sola rotatoria in via Leonardo da Vinci mentre la seconda, quella di via Carducci, è stata inserita e finanziata dalla stessa società dopo una specifica richiesta da parte dell'amministrazione comunale. Sotto questo punto di vista, una volta che le opere saranno terminate, nel giro di qualche settimana, le avviabilità in entrata e in uscita dal centro cittadino ne avrà dei sicuri benefici. In primis con l'eliminazione anche di due semafori. Una volta conclusi gli interventi, infatti, il comune di Tortoreto eliminerà anche il semaforo di via Trieste. Tra le idee al vaglio, infatti, c'è quella di un'ulteriore modifica alla viabilità. Per chi percorre via Trieste in direzione ovest, infatti, sarà prevista la direzione obbligatoria verso nord. E ovviamente con l'eliminazione del semaforo di via Trieste non ci saranno rischi nel futuro di reintrodurre il temuto rosso semaforico.